Ben arrivati, eccoci qui in questa nuova diretta In AI Play in un posto magico, oggi parliamo di robot, parliamo delle cinque fasi, come si crea un'azienda robotica, come si automatizzano tanti processi, magari quelli che ti creano un mal di pancia o un mal di pancia ai tuoi collaboratori, ci sono delle attività che molto spesso sono ripetitive e quindi perché non farle fare ad un robot? Perché magari ricevi mille ordini dal tuo e-commerce ogni giorno o ci sono 500 ticket di assistenza tecnica ogni ora piuttosto che vuoi monitorare come viene scritto un certo processo aziendale? Ecco in questa diretta abbiamo chiesto al nostro ospite di essere molto puntuale perché so che lì da quel lato sei pronto con la tua carta e penna a prendere appunti per poter partire con una nuova innovazione. È vero, ci saranno due parti, adesso lascio il palco, la prima parte a Giacinto perché insieme al nostro ospite non ve lo sveliamo, ne parleremo dopo con lui, lo presenterai dopo, guarderemo un po' quello che è lo scenario, dove ci troviamo, in quale momento della tua azienda è importante pensare all'utilizzo di una soluzione del genere e poi invece in una fase 2 che si fa? Nella fase 2 andiamo a toccare con mano questa tecnologia per capire come poterla utilizzare all'interno della tua azienda, come portare valore perché vedrai la parola valore in questa diretta tornerà un sacco di volte. Allora resta lì, tra qualche secondo si parte. Ci vediamo tra poco da questo lato. Ciao! E siamo qui con Vincenzo Marchica di Vincix, qui un'azienda tutta romana in un posto strepitoso che è il Tecnopolo qui a Roma e parleremo di come il Robotic Process Automation sta entrando all'interno dell'azienda e ti chiedo Vincenzo, quali sono le aziende che più ne stanno facendo uso? Allora, intanto grazie mille di Giacinto per questo incontro e per questa opportunità di raccontare che cos'è il Robotic Process Automation. Allora, le aziende che ne stanno soffrendo sono le più disparate. È una tecnologia assolutamente cross, ci sono banche, assicurazioni, back office di qualunque natura, ci sono anche industrie pesanti, acciaierie, chi fa manufattoria, di tutto e di più. Chiaramente anche tutte le altre aziende un po' più tecnologiche che utilizzano la Robotic Process Automation per, diciamo, velocizzare o ottimizzare i propri tempi. Se vuoi racconto un attimo... Brevemente, che cos'è la Robotic Process Automation in modo tale che chi ci guarda possa spiegarsi alcune cose? Ok, allora, Robotic Process Automation sta per una tecnica che sviluppa dei robot che sono in realtà purtroppo solo software, non sono... Certo, certo, non sono meccanici. No, purtroppo non sono meccanici, non mettiamo degli esseri robotici accanto a te, ma solo dei software robot che in realtà simulano l'essere umano, ecco perché la parte di robotic, quindi simulano l'essere umano davanti alla tastiera del mouse. Quindi, di fatto, quello che una volta impostato il robot si vede il mouse che si muove, si vede la finestra che si apre da sola, si clicca, si apre SAP, si mette l'utenza e quindi emula tutta la parte che in qualche modo è standard, lavoro, rutinario, in qualche modo anche noioso, lasciamo dire, che segue delle regole ben precise. Certo, è importante questo perché mi dai la possibilità di chiarire forse un dubbio che dall'altro parte chi ci guarda in questo momento si sta ponendo. Quali sono quindi i benefici principali? Abbiamo detto qualcuno che ti aiuta, qualcuno che fa le cose per te e poi? Allora, ci sono sicuramente il lato di standardizzare. Ok. Cioè tu hai spesso diversi processi, o meglio scusa, un processo con diversi approcci. Quindi tu vai in un'azienda più o meno grande, hai 3-4 persone che fanno lo stesso lavoro, non ci sarà mai lo stesso identico processo. Cioè sarà sempre una piccola variante. Allora, il robot, una volta che è istruito, fa sempre lo stesso processo, quindi la standardizzazione è uno dei risultati. Chiaramente la standardizzazione ne va anche di la classica frase compliant. Ormai in quel modo tutti i processi sono compliant, perché seguono delle direttive. E questo è un altro aspetto molto importante. Poi c'è l'altro aspetto che è l'effort. Cioè tu, un robot, lo puoi moltiplicare, lo puoi rendere H24, e quindi quell'attività, poi con costi abbastanza irrisori, renderlo per 10, per 20, per cento. Certo, e scenderla nel tempo e nella quantità. Esatto. Quindi avere un robot che lavora per 10 persone anziché per una e che lavora H24. E che lavora H24, che lavora al weekend, che lavora a Natale e così via. Chiaramente il nostro obiettivo è che questo robot sia un supporto all'essere umano. Quindi io, che devo fare una serie di attività, alcune fastidiose, lente, ripetitive, le faccio fare robot e io mi concentro su quello che è più umano. In molti congressi e molti conveni si parla sempre di il fatto che il robot ci possa rubare il lavoro. Secondo noi ci ruba quel lavoro che di fatto non è così valorizzante per l'essere umano. ma ci dà la possibilità in realtà di spingerci su altri tipi di lavoro. Banalmente quello emotivo, quello creativo, ma quello dove c'è un rapporto umano. Per esempio, banalissimo esempio, è la parte di procurement, faccio questo. Che le persone nel procurement devono fare tutta una serie di cose. Una lista infinita di documenti da leggere, scaricare, controllare, eccetera, eccetera. Dopodiché devono anche parlare con il fornitore, devono parlare con altri fornitori per fare una scelta più o meno oculata. Ecco, se tu gli togli tutta la parte standard di lettura, scarico dei documenti, si possono concentrare molto di più su andare da analisi del cliente, del fornitore, andare a dire ok, questa persona o questa azienda mi piace, non mi piace, posso indagare un po' di più. E la parte standard, diciamo, noiosa, la lasciamo andare. Devo dire che guardando anche il profilo LinkedIn di Vincenzo, ti invito a farlo, perché condivide tantissime idee di come un robot può prendere il posto tuo, insomma, e lasciare il tempo a te come imprenditore, come manager, di occuparti di altro. Ma non ti lasceremo solo in questo percorso, perché siamo qui con Vincenzo apposta, perché loro sono pronti a seguirti, e innanzitutto volevo chiederti, Vincenzo, questo metodo delle cinque fasi, perché ce l'hai raccontato in fase di preparazione della diretta, perché ti avevo chiesto, ma come può un'azienda tradizionale, la sua, trasformarsi in un'azienda che invece è guidata da un RPA? Ottima domanda, grazie, fantastico. Le cinque fasi sono importantissime per, appunto, guidare chiunque voglia entrare in questo mondo, chiunque voglia far entrare l'RPA nella propria azienda, e la primissima è la parte delle idee. Certo, cioè partire di là. Partire da là. Che vuol dire idea? Idea è raccogliere all'interno dell'azienda tutta una serie di opportunità, e quindi piccoli processi da poter automatizzare. Ok. Questa raccolta è fondamentale, a volte si cerca di partire direttamente da un problema ben specifico, che può essere un metodo, ma il nostro approccio, quello che vorrei in qualche modo spingere, è quello di dire, ok, l'emergenza, ok, l'obiettivo contingente, però cerchiamo anche di fare un passo indietro e guardare un attimo dall'alto. Io spesso, come hai detto tu su LinkedIn, parlo di helicopter view. Esatto. Guardiamolo dall'alto, guardiamo tutti i problemi dall'alto e mettiamoli in fila. Ok, quindi primo passaggio, raccogliamo le idee. Esatto. E mettiamoli in fila in modo tale da dire quali possono essere più o meno automatizzabili. Ok. Quindi fondamentalmente un ranking, ecco. Ok, diciamo dal primo posto quello più importante a seguire gli altri. Quello più importante o banalmente quello che è più automatizzabile. Più automatizzabile. Che non per forza significa quello che mi porta... Il massimo, il maggiore beneficio. Magari quello che mi porta maggiore beneficio è uno molto complicato... Che dovrò... Che lascio un po' più avanti. Ok. O che spezzetto. Attenzione, che posso spezzettare in più idee. Certo. Una volta che ho fatto questa parte di idea, parte la parte invece di discovery. Ok. Andare ad analizzare ogni singola idea, quindi vado, parto la singola idea e cerco di entrare all'interno del processo per in qualche modo, appunto, banalmente, ripeto, analizzare. Analizzare, quindi... Una sorta di assessment, diciamo. Ma immagino il manager dall'altro lato, quindi si è preso un appunto, devo guardare esattamente i miei processi e capire quali sono gli idee, quali sono quelli proprio che sono importanti o quelli che sono automatizzabili. Allora, questo processo lo facciamo insieme. Insieme. Ok. Cioè, l'elenco dei processi spesso viene creato insieme perché noi raccontiamo tutto quello che negli anni abbiamo passato. Bene, bravo. Giusto per dare un bel ground, io ho 14 anni che faccio processi automatizzati, quindi ne ho visto di tutti i colori. Bene. Quindi racconto un po' di processi, faccio vedere un po' di esempi e questo significa che normalmente fanno uscire le idee. E uno dice, io ho questo, io ho quell'altro, mi piacerebbe fare questo, ma questo si può fare, questo è il perfetto momento in cui escono tutte queste idee. Ottimo. Ci può essere chiaramente un momento posteriore in cui si è seminato e si lascia una piattaforma che poi vi farò vedere dove questa piattaforma serve proprio per raccogliere le idee dopo. Nel tempo successivo allo start. Nel tempo successivo allo start. dettaglio. Andiamo a parlare con chi fa questo lavoro. Gli owner, no? Dei vari processi. Gli owner, uno per uno andiamo a vedere che cosa vogliono, diciamo, e cosa vogliono raccontarci. E costruiamo, come ci abbiamo detto poco fa, la standardizzazione, costruiamo un nuovo flusso che sarà un flusso robotico che è differenza dal flusso umano perché può seguire delle regole diverse, leggermente diverse. Faccio un esempio, un utente magari scarica un documento alla volta o un file alla volta e il robot potrebbe scaricare mille file e poi lavorarli in una fase successiva. magari l'umano. Non uno per volta, ma un'attività massiva. Un'attività massiva. Certo. Questa è appunto la parte importantissima. Ok, quindi qui stiamo costruendo, iniziamo a mettere i primi brick uno sull'altro per vedere, per costruire il nuovo processo, quello automatizzato. Esatto. Però nel frattempo bisognerà buttare un occhio qua e lì per capire se ci siamo persi qualcosa. Ma quello sì, sicuramente. E quello è un altro dei benefici che si ottiene quando si analizza un processo per darlo in pasta a un robot. Cioè si scoprono le casistiche non gestite. Esatto. Quello, guarda, è molto spesso... Uno dei benefici che non... Esatto. Esatto. Molto spesso ci siamo accorti di alcune casistiche che stanno in un grigino che l'essere umano però gestisce l'autonomia perché dice ok, devo decidere se dare a destra o a sinistra. E l'essere umano decide. Però magari non c'è una regola troppo stringente. Il robot quando non sa dove andare si ferma. Certo. Quindi a quel punto la regola bisogna darla. Esatto. E bisogna inventarla. E allora si torna dal cliente e si dice ok, il robot si è fermato qua, che dobbiamo fare? Destra o sinistra? Ah ok, andiamo a destra. Parliamone oppure scegliamo. E decidiamo un patto che possa avere più o meno senso. E questo chiaramente crea un altro beneficio che è la completa mappatura del processo che in alcuni casi appunto anche se può sembrare completa c'è sempre qualche casistica Ancora da andare a scoprire. C'è la fase del controllo che avviene dopo la costruzione del processo? Allora la fase del controllo avviene in realtà dopo lo sviluppo del processo. Dopo lo sviluppo del processo. Chiaramente parlando solo di parte teorica c'è la parte appunto di analisi, la parte di documentazione di quello che è la mappatura del nuovo processo, la scrittura di tutte le specifiche che devono essere date al robot e poi c'è la parte dello sviluppo. Ok. Non perdere troppo tempo sullo sviluppo. Lo sviluppo è qualche programmatore che si mette là e disegna i robot con tutte le eccezioni. Poi c'è la parte del controllo. La parte del controllo in effetti è una parte molto importante su cui noi vogliamo concentrarci sempre di più, che è quella di appunto monitorare perfettamente cosa stanno facendo i robot, ma non solo cosa fanno i robot, cosa fanno le macchine. Perché qua c'è anche da raccontare che cos'è un robot, cos'è una macchina o cos'è un processo. A volte le persone pensano... Confusi. Sì, le persone pensano... Cioè è chiaramente una semantica, no? Nel senso cos'è il robot, cos'è il processo. A volte il processo e il robot sono la stessa cosa per molti. in alcuni casi la macchina per noi è il robot, i processi sono quello che fa il robot. Perché se lo intendiamo come un robot fisico che magari ci abbiamo accanto alla scrionia, quello è un robot. Tradotto è una macchina, un computer. Certo. Poi tutti i processi sono le skill che il robot fa. Quindi tu gli hai insegnato a gestire le fatture, gli hai insegnato a gestire gli ordini, gli hai insegnato a gestire i reclami, questi sono processi. che hai insegnato al robot. Questa è un po' la mia nomenclatura, ma chiaramente... Chiaro, chiaro, chiaro. Però quando parlate con Vincenzo, occhio, ho utilizzato la parola robot. Per me sono le macchine, poi chiaramente... Certo, certo. Detto questo, bisogna controllarli. C'era la famosissima frase, la potenza è nulla senza controllo, no? Senza controllo. Quindi se tu hai tutta una serie di robot, tutta una serie di processi che vanno in giro per l'azienda e non li controlli. Prima o poi. È il rischio che facciano... O si blocchino senza che nessuno li gestisca. Ok. Quindi è come fosse una manutenzione ordinaria che viene fatta o in base alla vostra esperienza andate a controllare che ci sia qualcosa che... Allora, è entrambe, nel senso che da un lato c'è la gestione quotidiana di le performance. Ok. Stanno andando bene, non stanno andando bene, dovrebbero gestire mille ordini al giorno e ne gestiscono 600, c'è qualcosa che non va. Ok. E non solo questo, ma chiaramente il nostro punto di vista è monitorare e quindi farli funzionare, ma con l'ottica di migliorarli. Ok. Quindi nella nostra ottica questo processo deve essere un processo che migliora nel tempo. Un po' come il vino, no? Ok. Ottimo. È una buona bottiglia, una buona cantina e il vino migliora. Deve migliorare. Piano piano deve migliorare. È chiaro che se tu questo vino lo metti al sole, forse, forse no. Però il processo se lo lasci, se lo abbandoni, siccome, ritornando a quello che è la descrizione dell'automatizzare i processi umani, io faccio l'esempio del caricamento di una fattura su SAP. Io carico la fattura su SAP e basta, funziona. Però nei giorni, negli anni, nei mesi, può essere introdotto una piccola casistica, un pop-up, una gestione che non era inclusa all'inizio. E quindi robot si ferma o performa male. Ok. Allora, il monitorare e il gestire robot mi serve per appunto farlo funzionare sempre meglio. Mi sembra un'ottima assicurazione per il successo dell'iniziativa, devo dire. Davvero complimenti per questa. Si chiude la quinta fase con il valore, il value. Esatto. Il valore, chiaramente, è la parte che porti in azienda per far vedere cosa hai realizzato. Quindi il valore non è altro che il risultato dei KPI che hai messo all'interno dei processi e mi dice cosa sto producendo. In termini di ore salvate, ore prodotte e quindi di conseguenza soldi o salvati o prodotti. Perché soffermo sul prodotto? Perché spesso ci si sofferma sulle ore salvate. Ecco, quanto mi fai risparmiare? Quanto mi fai risparmiare, cioè io oggi ci metto tre ore, domani risparmio tre ore. Il mio, diciamo, beneficio è solo tre ore. In realtà le ore prodotte sono su molti processi quello che non viene spesso considerato ha le casistiche di errore dell'uomo, che chiaramente dovrei eliminare e quindi ho dei benefici. Certo. Non ci ritorno sopra, non ci perdo tempo, eccetera, eccetera. Ma soprattutto in alcuni processi che oggi facevo a campione o in qualche modo non troppo, non sempre, ecco, magari ogni giorno non lo facevo. Ok, saltuariamente lo facevi. Oggi lo faccio sempre, oggi lo faccio su tutte le mie casistiche, non tralascio niente, quindi significa che produco del valore, produco delle ore che prima non venivano fatte. E uno dice, ma prima non lo facevo, quindi non ho un risparmio, ma in realtà la qualità. Si, in effetti era una mancata produzione, quindi è un mancato ricavo per intenderci, no? Non farlo è un mancato ricavo, quindi in questo caso c'è, è un valore di produzione. O comunque si può valutare anche la qualità percepita. Certo. Cioè se io faccio mille controlli e mille controlli li faccio tutti, la qualità per forza sarà maggiore piuttosto che farli a campione. Certo. Benissimo, abbiamo visto le cinque fasi, il modello a cinque fasi, bellissimo. Riguardatevi questa parte, poi dopo, quando finite la diretta, perché davvero vi possono far venire l'idea giusta per partire. E adesso mettiamoci nei suoi panni, perché quello che si sta chiedendo è, magari è lui stesso che decide, va bene, questa domanda non se la fa, ma forse deve riportare questa considerazione che ha vissuto stamattina a un suo responsabile. Qual è il suggerimento che tu fornisci lui per partire domani con una RPA fatta bene da Vincix? Allora il consiglio è sempre quello di appunto partire dalla prima discovery del workshop. Noi siamo sempre a disposizione per fare dei workshop conoscitivi di un paio d'ore in azienda dove portiamo la nostra conoscenza e quindi raccontiamo cosa facciamo, cosa non facciamo e cerchiamo di far uscire le idee. Poi la parte successiva, la raccolta delle idee, chiaramente quella rientra già in una parte un po' più strutturata, però il workshop mi sembra la parte iniziale che può essere veramente interessante. Uno raccoglie attorno al tavolo 10-15 persone, raccontiamo, facciamo vedere in video piuttosto che fisicamente, ovviamente noi viaggiamo spesso e facciamo vedere un po' le cose. Da quello, anche con video esemplificativi, facciamo vedere un po' le cose che abbiamo già fatto, chiaramente poi è un po' più semplice perché spesso mi rendo conto che finché non si vede un video o si vede un laptop, io spesso mi porto il mio computer e faccio vedere il laptop che si muove da solo. E finché uno non lo vede è un po' più difficile. Sì, infatti, infatti, allora io vi lascio sicuramente a questo workshop che organizzerete poi dopo con Vincenzo, ma a questo punto grazie Vincenzo perché dobbiamo spostarci dall'altro lato dove ci aspetta quel burlone di Pasquale con cui vivremo una parte, una fase importante di questa diretta, una demo di come funziona la tecnologia di Vincix. Grazie ancora e a dopo. Grazie Cicento, grazie mille. Grazie Cicento, ben ritrovati, sempre qui all'interno di questo workshop online, vi stiamo raccontando come far diventare robotica la vostra azienda, o quasi. Ciao Vincenzo, ben ritrovato. Grazie mille Pasquale per questo invito e per questa sessione. Grazie a te, grazie a te. In questa seconda parte guarderemo più nel dettaglio, quindi che cosa c'è sotto il cofano di queste cinque fasi, in questo metodo che Vincenzo ci racconterà, anzi ci ha raccontato con Giacinto nella sua parte teorica, quindi come portare la tua azienda ad utilizzare i robot e quindi anche a renderla un'azienda robotica o quantomeno nella parte principale dei suoi processi. Guarderemo insieme ora che cosa c'è sotto il cofano perché c'è una tecnologia in realtà che possiamo utilizzare, no Vincenzo? Esatto, esatto. Parliamo della piattaforma Turbotik. Esattamente, noi abbiamo fatto questa partnership con Turbotik perché siamo sempre alla ricerca di nuove tecnologie e la parte di gestione end to end delle attività di RPA, abbiamo trovato questa piattaforma che risponde in maniera puntuale alle nostre esigenze. E quindi chiaramente abbiamo fatto questa partnership e la proponiamo perché intanto la utilizziamo internamente, cosa ovviamente importante perché ci facilita tanto il nostro lavoro, ma soprattutto la proponiamo ai nostri clienti che hanno un competence center già in atto o stanno completamente partendo, quindi all'inizio, all'inizio del loro percorso, copre entrambe le situazioni. Le situazioni, ok. Quindi adesso guarderemo esattamente le cinque fasi all'interno della piattaforma, quindi sarà intervallato anche da immagini della piattaforma in sé, così potrai guardare esattamente cosa c'è dentro. Ti faccio prima una domanda, prima di passare alla piattaforma, chi è che all'interno dell'azienda si deve occupare di tutto questo? Quindi chi è il vostro interlocutore e la persona che poi deve appunto utilizzare o comunque interfacciarsi con voi? Allora è un'ottima domanda, in realtà dipende dall'azienda azienda, nel senso ci sono alcune aziende che hanno già identificato un gestore dell'RPA o dell'automazione in generale, quindi qualcuno che è il capo di questa practice e che appunto inizierà a utilizzare questa piattaforma e inizierà a gestire i propri robot. Ok. In altri casi non c'è un vero e proprio capo dell'RPA, ma ci sono più persone che in qualche modo si fanno carico di portare questa practice all'interno della propria azienda. Perfetto. Magari riferendosi a un CEO o un Innovation Officer di riferimento. Di riferimento, sì. Ok, perfetto. Allora, entriamo in piattaforma e quindi partiamo dalla fase 1. Esatto, l'idea che vedete anche qua dietro. L'idea è la prima parte dove serve la raccolta delle informazioni. Noi abbiamo detto che è importantissimo raccogliere tutto quello che possono essere le opzioni, i processi da automatizzare. Questa parte ci dà la possibilità di raccoglierli in maniera un po' più strutturata. Bene. Quindi con un questionario, come vedete ci sono tutta una serie di opzioni quando io creo un'idea. Ok. Ed è di fatto un buon questionario che mi permette di elencare tutto quello che deve fare questo processo. Ottimo. Tutta una serie di domande a risposta multipla o in alcuni casi aperta dove c'è la descrizione. E tutte queste cose mi permettono già di avere un feedback immediato dalla piattaforma. Ok. Fattibile, non fattibile, suggerito, non suggerito. Questo è molto interessante. Mi permetto di sottolinearlo. Quindi siamo ancora nella fase dell'idea ma già mi stai dando una risposta importante. È suggerito o non suggerito? Quindi non devo fare tutto il processo per capire se poi ha senso o no utilizzarlo. Ottimo. Esattamente. Quindi diciamo la piattaforma mi aiuta già in prima battuta a dire guarda questa idea è fattibile. Per esempio in questo caso la raccomanda. Ok. Con solo RPA. Ok. In altri casi magari la può raccomandare con l'aggiunta di intelligenza artificiale o di LNP o cose varie. In altri casi potrebbe non consigliarla. Ok. Perché magari poco strutturata, con documenti poco strutturati e con un effort ad oggi bassissimo. Ok. Ok. Quindi se io faccio un processo dove ci metto un'ora al mese, in più ci metto documenti non strutturati, in più ci metto dati, processo traballante e sistemi che utilizzo non particolarmente stabili, la piattaforma mi dirà attenzione. Forse. Poco raccomandato il processo e quindi andare avanti in questo sistema. Esatto. Per esempio è molto interessante, riassumendo, siamo nella fase iniziale, ti stai chiedendo se c'è una parte delle tue attività all'interno dell'azienda che possono essere robotizzate. Esatto. E quindi nella fase 1 idea, inserendo i dati, quindi rispondendo ad un questionario che è molto fluido e devo dire anche molto semplice da rispondere, la piattaforma ti dice già guarda stai pensando bene, sei sulla strada giusta, questo è un processo che puoi robotizzare oppure addirittura ti dice scarsamente consigliato a farlo. Esatto, esatto. La cosa interessante è che il modulo idea può essere dato a chiunque. Ok. Non è un modulo che è solo appannaggio del gruppo di innovazione o del gruppo del Competence Center di RPA, ma in azienda si dà a chiunque. Si dice, si fa andare a newsletter dicendo chiunque abbia un'idea può andare su questa URL e mettere la propria idea. Bella anche questa. Questo significa che io mi posso, fra virgolette, permettere di chiedere a 100 persone, 200 persone, 1000 persone della mia azienda idee. Chiaramente già c'è una piccola scrematura iniziale, come abbiamo detto, in più poi chiaramente faccio io la mia scrematura di andare a vedere se un'idea è approvabile oppure no. Effettivamente è approvabile o no. Esatto. Quante volte in azienda ti sei chiesto, o magari un tuo collaboratore ti ha chiesto, questa attività la svolgiamo sempre, sempre allo stesso modo, ma non c'è un tool, non c'è un software, non c'è un modo per cercare di automatizzarla, per cercare di farla fare a qualcosa di, come dire, digitale, e così noi ci concentriamo su altro. Ecco, nella fase dell'idea passi il link a quel tuo collega, compila il questionario e già la piattaforma ti raccomanda un suo parere. Esatto, un suo parere. Dopodiché la parte un po' più, diciamo, dedicata, un po' delicata è in qualche modo un po' più da Competence Center e guardare tutte le idee consigliate, quindi quelle che hanno una fattibilità già abbastanza buona, andarsene a leggere e nel caso positivo approvarle. Perfetto. Quindi l'idea passa a una seconda fase, che è la fase di Discovery. Ecco, entriamo nella fase 2. Discovery. E una volta che l'ho approvato, passa la fase di Discovery, significa che io mi trovo le idee approvate, eccole qui, e ogni idea approvata, questa per esempio, l'ho approvata questa mattina, ci clicco sopra e mi parte tutta la fase successiva, che è andiamo ad analizzare questa idea. Bene. Quindi il sistema mi permette con una sorta di, diciamo, processo guidato, di crearmi una piccola Discovery, quindi il vantaggio di questa piattaforma è che noi che lo facciamo quotidianamente, abbiamo in mente tutta una serie di passaggi. Questo è chiaramente un supporto, non solo per noi professionisti del settore, ma per anche le persone interne all'azienda, che hanno appena iniziato questo percorso dell'automazione, che in qualche modo si vedono... Certo, c'è un supporto anche all'andare avanti nella fase, in modo tale da poter seguire tutti i vari step. Ecco, come vedete ci sono tutta una serie di step da seguire. Hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, ho fatto tutto, ho fatto tutto, una volta che ho fatto tutto, tac, scusa, ecco fatto. Ecco l'ultimo. E a quel punto passo alla fase successiva. Ok. Quindi ho fatto la prima parte, posso andare avanti? Quindi una volta che ho fatto questo, completo la fase, ci sono dei questionarii da riempire. Ok. Fatto questo, vado avanti, vado avanti, vado avanti e vado anche a costruire in tutta una serie di, anche qua per esempio vado a costruire i KPI, cioè vado a mettere degli elementi che mi daranno poi un risultato di fatto di fattibilità anche di benefici economici. Ok, se prima abbiamo visto nell'idea la fattibilità e avere o no un senso operativo, quindi effettivamente di beneficio nel fare o no quell'attività, in questa fase invece gli diamo anche una concretezza economica. Gli diamo una concretezza e gli diamo anche un business case perché vado a dire questa attività deve essere fatta in un modo, in un altro, deve essere fatta con questo software con questo tipo di personale, con questi costi, questo significa che una volta che ho creato il, appunto, tutto il mio questionario, tutti i miei KPI, vado di fatto ad avere anche un tracciamento di quello che è il beneficio. Ok. Il beneficio atteso. Perfetto. Ok. Quindi avrò un business case, in questo caso è vuoto, ma avrò un grafico di un business case che mi dice, guarda, il processo ti può produrre questo risultato. Ok, quindi gli diamo anche, come dicevamo prima, un valore economico anche attraverso un grafico che ce lo dimostra proprio chiaramente. Esatto, quindi se io vado a vedere qua, ecco, questo è un business case di esempio dove mi dice, guarda, c'è un ritorno dell'investimento a Q1, dopo tre mesi ho un ritorno dell'investimento e dopodiché vado a guadagnarci. Ok, sono partito quindi da un'idea, un'idea che mi è stata fortemente raccomandata anche dal sistema, quindi posso robotizzare, posso cercare di rendere il robotico un processo all'interno dell'azienda, parlo di un processo ma possono essere anche più di uno, nella fase 2, quindi dal discovery, mi dà anche una concretezza economica, cioè mi dice, guarda, ha senso anche quando, quindi mi dà anche una linea temporale, che cosa c'è dopo? Subito dopo, una volta che quindi ho deciso, chiaramente la parte, diciamo, finale è anche quella un po' più, si coinvolgono anche gli architetti o comunque dei programmatori senior che mi dicono questa cosa è fattibile con questi strumenti, con questi software. Competenze anche immagino? Competenze, quindi ci servono X software che hanno questi costi e così via, è tutto settabile, io posso configurare i costi dei software, i costi del personale e quindi quando io vado a dire ci servono 5 ore di PM, lui sa quanto costano 5 ore di PM, 5 ore di programmatore, 20 giorni di analista e così via, è tutto già tracciato e soprattutto configurabile, questo è interessante. Una volta che ho fatto, quindi la mia discovery è approvata, significa che è un processo che voglio automatizzare, che voglio portare in produzione. Certo. Parte la parte di build. Effettivamente, quindi quella di creazione. Creazione. Il build non è altro che una fase, anche qua una serie di questionari, è una fase che chiaramente viene gestita dal PM o dall'analista, che nel nostro caso spesso il PM e l'analista sono delle figure che coincidono. Il PM, il project manager, segue lo sviluppo del software, quindi ha una sola scaletta da fare, chiaramente anche qua la scaletta è configurabile, nel senso che posso cancellare delle fasi piuttosto che aggiungerne altre, perché magari nella mia azienda non c'è una fase piuttosto che non voglio saltarla e mi dà a quanto siamo di sviluppo, quindi in questo caso il 21% completato, che significa che giorno per giorno vado ad incrementare questa percentuale, man mano che questo processo appunto diventa poi realizzato e con tutti i vari step anche qui. Esatto. Quindi mi dà la possibilità di monitorare perfettamente quello che sta succedendo. L'avanzamento. In certo, la cosa che voglio saltare subito alla fine è il code review. Ok. E questo mi dà la possibilità al PM, al PM mi dà la possibilità di guardare il codice, o meglio di guardare, di avere uno score del codice fatto dagli sviluppatori senza sapere di fatto programmare. Nel senso il project manager può uploadare qua il codice e capire se o meno il codice ha un buon score. Quindi in questo caso il primo ha 11.000 di score, il secondo 740. 740. Beh, nel 740 forse c'è qualche problema, cioè un contro gli 11.000. Quindi andrò a... poi chiaramente posso entrare a vedere il dettaglio delle score e il perché mi dà uno score piuttosto che un altro. La cosa importante è chiaramente questo è uno strumento fatto per... non per il programmatore o, lasciami dire, anche il programmatore che ha poco tempo e quindi deve controllare tanti sviluppi, le dà in posta al sistema, il sistema dà uno score più o meno alto, diciamo che da uno score in poi possiamo dare per buono, sotto vado ad analizzare. Bisogna dargli un'occhiata, perfetto. Diciamo che è tutto bene, tutto buono, andiamo avanti e abilito il... Quindi ho rilasciato in produzione. Perfetto, quindi è la nostra idea, ha avuto un'approvazione anche a livello economico, siamo entrati nella fase build, nella fase build qui il nostro project manager ha tutto sotto controllo gli step di avanzamento, può dare anche un'occhiata alla qualità della produzione, quindi l'abbiamo messo in quello score, score review, ok, code review e adesso? Una volta che ho abilitato, quindi ho completato il lavoro, troverò il mio processo dentro controllo. Ok, quarta fase. Esatto, in controllo ho una dashboard che mi dà un overview generale su macchine, processi e andamento in generale, quindi eventi di varia natura, che posso chiaramente poi declinare in singoli processi, quindi mi vado a vedere i singoli processi, gli stati per esempio qua, completati a novembre, 976 cicli dei vari processi. In totale ho 2700 job, con eccezioni, quindi se voglio vedere solo le eccezioni, completati, stoppati, eccetera, eccetera, ok. Total process, quindi tutti i processi che ho oggi gestiti, chiaramente questa è una piattaforma di demo e non ho tantissimi processi. Chiaro, certo, però questa è l'area in cui si possono... Sì, dove vado a guardare tutti i miei processi, cosa sta girando e cosa non sta girando e questo mi dà a me di business una grandissima visualizzazione di tutto quello che ho nella mia fabbrica di robot. Chiaramente in realtà serve molto anche per la control room, perché le persone di control room vanno qua, controllano cosa sta succedendo e possono andare anche nel dettaglio del log di cosa è successo, cosa non è successo e far partire eventualmente dei processi. Ah, perfetto, interessante che è questo. Voglio far vedere una cosa molto carina che ad oggi abbiamo visto solo su Turbotik, che è questo, faccio un esempio, io prendo... Siamo sempre nella fase di control? Sempre nella fase di controllo io posso gestire i miei workflow, o crearmeli in realtà. Quindi la cosa interessante è che io mi posso creare dei workflow, qua si vede un workflow fatto in Blue Prism, posso disabilitare perché non posso modificare se abilitato e aggiungere un processo nuovo, quindi posso aggiungere dopo questo processo cosa deve fare il mio flusso di lavoro, faccio questo, subito dopo faccio un altro processo, ma la cosa più interessante è che posso fare un processo, qua confermo, UiPath. Quindi, ad oggi io ho un processo Blue Prism. Subito dopo... Scusate, questo è pure un processo UiPath, ho sbagliato. Un processo Blue Prism che dovrebbe essere... aspetta lo vedo qua. Sì, qui forse si vede meglio. Eccolo qua. Ok. Questo è un processo Blue Prism, si vede sopra, e questo è un processo UiPath. Ok. Al completamento passo... Al completamento mi dà questo, posso anche mettere una... quindi una condizione. E continuare a creare il mio workflow. E continuo a creare. Se va bene... Se va bene fai questo, se fallisce fai un altro. Ok. Questo, la cosa interessante, io in questo momento, in questa piattaforma non ho Automation Aware, ma io potrei avere Blue Prism, Automation Aware, UiPath coordinati dall'unico piattaforma. Tutti all'interno. Oggi cosa è impossibile da fare. Ok. Quindi se io ho processi Automation Aware e Blue Prism, sono gestiti da due control room separate, sono gestiti con due scheduling separati. Qua ce li ho schedulati insieme. Ottimo, ottimo. Questa è una cosa che non ha nessuno. Ad oggi, poi magari da tre mesi sarò smentito, ma oggi non ce l'ho. In questo momento, quindi siamo qui all'interno di questa diretta e sicuramente li trovi qui. Questa era la quarta fase. Guardiamo l'ultima, Velio. L'ultima fase è appunto il Velio, che è una fase un po' più, diciamo, di alto livello per, diciamo, per l'uomo, per il responsabile di business, che ha la volontà... C'è qualcosa? Quindi, ecco qua. Ecco qua, stavamo cercando questi dati per farveli vedere. Esatto. Mi dà la, diciamo, mi dà una valorizzazione. Abbiamo detto che c'erano i KPI nei processi, no? Io ho segnato una serie di KPI, quindi ho detto che quel task, quel processo, mi va a risparmiare 10 euro ogni volta che faccio un giro. Ok. Mi va a risparmiare 5 errori ogni 100 lavorazioni. Ok. E questi 5 errori mi sono, mi producono un valore di 3 euro l'uno. Ok. Quindi, a seconda dei lavori che faccio, dei cicli che girano, delle lavorazioni che appunto vengono generate dai miei robot, avrò i miei grafici che mi dicono, ad oggi stai risparmiando X, ad oggi stai risparmiando Y e li stai risparmiando... Eccoli qua. In merito a questi singoli KPI o questi processi. Ok, quindi nella parte idea abbiamo una risposta in chiave di fattibilità. Nella parte del discovery abbiamo una risposta anche legata al singolo task economica. Nella parte del value invece al termine di tutta la realizzazione del nostro robot, quindi del nostro processo che è diventato robot, qui abbiamo proprio un valore economico che si palesa, che è l'unione di tutti i vari step. Esatto, è l'unione anche di tutti i vari KPI e mi permette per esempio di dire, guarda, in questo momento ho risparmiato 2 giorni e 12 ore. 12 ore e 30 minuti. Ho salvato in questo momento quasi 5.000 euro. Eccoli qua. Chiaramente più KPI metto all'interno dei miei processi e più avrò un risultato, diciamo, interessante e dettagliato, più lascio correre, diciamo, nei mesi e più storico accumulerà la piattaforma e quindi io a fine anno ho un risultato. L'altra cosa interessante del value, che in realtà è una parte del value, ma in realtà lo vedo nel controllo, scusatemi, è quella dell'utilizzo delle risorse. Ah, ok. Cioè io oggi posso sapere con il dettaglio come sto utilizzando le risorse, se le sto usando bene o male. Se io pago una macchina 10.000 euro l'anno e la uso al 40%, significa che sto buttando 6.000 euro. Certo, e penso che la cosa più importante in questo caso è già qualcosa che ce lo dica. Esatto, esatto. Che ci accenda questa lampadina e poi dopo sicuramente andare a capire come utilizzarla meglio. Esatto. Quindi ecco qua, nella parte delle risorse. Sì, 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 sì. Vedo che io questa la sto usando al 40%. Al 40%, eccolo qui l'indicatore. Questo chiaramente è un campanello dell'arma. Assolutamente. Poi potrebbe anche essere corretto nel senso del business, perché uno dice ok, quella macchina deve essere dedicata per alta affidabilità, a tutto quello che voglio. Ok. Però almeno lo so. Intanto è un monitor. Ecco qua. Questa macchina che magari la utilizzo al 55%. Devo capire perché la utilizzo al 55%. Ottimo. Magari posso unire più processi e quindi fondamentalmente diminuire macchine. Oggi ne ho tre, ma le utilizzo tutte e tre. Una al 40% e l'altra al 55%. Si nivea e potrei mettere tutti i processi in una macchina sola. Esatto, esatto. Molto interessante anche questo aspetto. Ovviamente bisogna sempre scendere nel dettaglio, però in grandi linee potrebbe essere un buon beneficio. Ottimo. Quindi idea, discovery, build, control e value. Queste sono le cinque fasi che abbiamo analizzato in chiave teorica con Giacinto. E adesso li abbiamo visti all'interno della piattaforma Turbotik. Quindi li abbiamo dato, come dire, una concretezza. Esatto. Si fa così. Quelle cinque fasi sono poi queste nell'operatività, quindi per far diventare robot una tua azienda. Vincenzo, prima di salutarci, ai nostri manager, imprenditori, chi ha guardato questa diretta fino a questo punto, bravi. Voi, che cosa vogliamo dirvi? Qual è l'invito all'azione? Allora, l'invito all'azione è se voi non avete ancora iniziato il vostro processo, questa piattaforma può essere usata alla prima parte, idea, per raccogliere l'idea in tutta l'azienda, in maniera strutturata. Ok. E vi possiamo tranquillamente mettere a disposizione una POC per raccogliere le idee. Wow, ottimo, ottimo. Per chi invece ha già dei robot, chiaramente può sfruttarlo in tutte le fasi, è chiaro che chi ha già dei robot in produzione partirà dalla parte di discovery per settare i TPI e poi control e value. Ok. Perché le ha già costruite, quindi il build non lo userà per i processi vecchi, lo userà solo per quelli nuovi. Però già che settiamo i TPI e abbiamo un risultato nel value e nel control, già si vanno a notare, uno dice, oggi c'è il rischio che tutti questi robot che hai in azienda non sono valorizzati. Effettivamente valorizzati, ottimo. E quindi anche qua quello che noi possiamo fare è una POC di qualche mese per farvi vedere il risultato e poi chiaramente l'acquisto. La cosa interessante è che la piattaforma viene venduta a utenti che utilizzano, attenzione non idea. L'idea, abbiamo detto, puoi avere tutti gli utenti che vuoi, gli utenti che utilizzano, approvano le parti di discovery, eccetera, eccetera, e processi monitorati. Perfetto. Quindi ci sono delle piccole fee che gestiscono i processi e gestiscono le utenze. Ok, quindi Vincenzo e la sua VinciX mette a disposizione le loro competenze e soprattutto POC per iniziare o per continuare il tuo processo di robotica all'interno della tua azienda. Vincenzo, davvero sei stato chiaro, perfetto, lineare. Io ho compreso tutto ma sicuramente anche dall'altro lato. Grazie mille. Ti ringrazio. Grazie. E ci vediamo alla prossima. Perfetto. Ciao. 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 Ciao.